Assolto. L'ex amministratore delegato di SCC Luca Amedeo Ramella è stato giudicato innocente di fronte alle accuse di bancarotta a suo carico. La sentenza è stata pronunciata dal giudice per le udienze preliminari di Pordenone che ha confermato le richieste della procura avanzate in estate. Le parti civili, ovvero il commissario straordinario Maurizio Castro, le sigle sindacali di settore e la regione Veneto imputavano al dirigente la creazione di un buco da 450 milioni di euro. Tra le contestazioni giudicate non fondate dal giudice, l'aggravamento del dissesto conseguente dal non aver chiesto il fallimento della società, una valutazione del marchio gonfiata nell'ambito di una cessione di ramo d'azienda e un'ipotesi di bancarotta preferenziale o distrattiva per aver percepito compensi dalle società del gruppo tramite Alex Partners, società consulenti di ACC, dal 2008 al 2012. Amareggiato il commissario straordinario Castro? Se è vero, commenta, che quello del gruppo ACC è un dissesto da 450 milioni di euro e se non è il responsabile, chi ha guidato l'azienda per conto dei fondi speculativi che la controllavano, chi è allora il responsabile di un simile disastro? Il rinvio a giudizio era arrivato solo in seguito alla mobilitazione istituzionale dopo la richiesta di archiviazione formulata dalla procura. La difesa aveva scelto il rito abbreviato che assegna uno sconto di pena in caso di condanna. In questo caso però è arrivata direttamente la soluzione. Così Castro promette di appellare la sentenza di Pordenone in ogni forma e sede utile e continuare a chiedere che sia accertata la responsabilità degli autori di quello stesso dissesto che ha desertificato uno dei patrimoni tecnici e occupazionali più significativi del nord-est.